Ciao a tutti, siamo i Magis of Lotus, benvenuti oppure bentornati nel nostro canale. La release di XLAN è agli sgoccioli e qui per voi abbiamo un contenuto che potrebbe interessarvi, ovvero la Top Investments di questo set. Successivamente uscirò la Top Investments anche di Mark. Allora ragazzi, prima di cominciare vi invito, come sempre, a lasciare un like, attivare la campanella e ad abbonarvi. Se vi piacciono questo tipo di contenuti, l'abbonamento è fondamentale perché potrete visualizzare tutto ciò in anteprima rispetto agli altri, che comunque ringraziamo. Allora, due premesse prima di cominciare. Allora, la prima, questa non è una consulenza di finanza, ma sono solo opinioni di un appassionato da lunga data. Seconda premessa, sì, questa qua. Allora, do ancora fiducia a Mythic Spoiler, però stavolta devo dargli una piccola tirata d'orecchie perché una carta non era presente, o meglio, era presente solo nella versione con art alternativa e questa carta è anche in questa Top Investments. Tra l'altro sono poche le carte che ho messo, sono otto, cioè sono solo otto le carte che, diciamo, vi consiglio di comprare oppure comunque di tenere monitorato il prezzo perché hanno un potenziale molto, ma molto elevato. Allora, partiamo con l'ottava posizione dove vedo Volatile Fault. Terra, caverna, un nuovo tipo di terra. Allora, aggiungiamo un mano in colore, tappandola. Se la sacrifichiamo, distruggiamo una terra non base, l'avversario può prendere una terra base dal Grimorio e metterla in gioco, stappata, e noi creiamo un tesoro. Allora, questa carta sta a 1,20€ circa nella versione Foil. Qui, ragazzi, vi faccio vedere anche il numero di carte, il numero di copie che appunto questo seller vende perché non ha senso prendere come riferimento una carta in 1x perché non fa media, o meglio, non fa media. È poco, come dire, rilevante. Cioè se c'è una copia a 50 centesimi, conviene comprarla, sì, se avete tante altre carte da comprare da quel seller, ma altrimenti no. Quindi vi faccio vedere adesso i prezzi, però con, diciamo, ampia disponibilità a livello di copie. Comunque, questa terra la vedo molto, ma molto bene in Commander perché, allora, intanto, diciamo, il fatto di fare 8 sulle terre è già forte in quel formato perché comunque le carte come Field of Ruin, Wasteland, non si possono giocare in 4x, ma solo in 1x. Quindi questa è un'aggiunta che comunque va bene, semplicemente anche per la prima abilità. Il fatto di creare un tesoro, magari incostruito, non Commander, è meno forte. In Commander, invece, visto che ci sono tante sinergie con i tesori, può essere molto importante. Mi viene in mente, per esempio, Anointed Procession, quindi un mazzo token che, appunto, vuole fare token, vuole fare tesori. Con la processione, appunto, faremo il doppio dei token. E quindi questa carta potrebbe, secondo me, essere molto impattante in Commander. Poi, in settima posizione, vi faccio vedere Kellan. Allora, questa è l'unica carta con Adventure presente in questo set. La parte Adventure ci fa creare un token mappa più, cioè 1, anzi, ci fa creare x token mappa, dove x è pari a 1 più il numero di avversari che controllano un artefatto. In sostanza, in 1v1, che è il motivo per cui ve la consiglio io, ci può far creare al massimo 2 token mappa. Cosa fanno i token mappa? Sacrifichiamo questo token e, appunto, bersagliando una nostra creatura, tale creatura farà explore. Explore cosa vuol dire? Guardiamo la prima carta del Grimorio. Se è una terra, la aggiungiamo alla mano. Altrimenti possiamo decidere di metterla al cimitero o lasciarla in cima. E, in ogni caso, metteremo un segnalino 1 più 1 alla nostra creatura. Allora, questa sorcery, il lato sorcery è abbastanza sinergico con il lato creatura. Il lato creatura è molto forte. 2-3 a costo 2. Quando attacca, guardiamo la prima carta del Grimorio. Se è una creatura che costa 3 o meno, la possiamo aggiungere alla mano. Anzi, la aggiungiamo alla mano. Altrimenti possiamo metterla al cimitero. E' chiaro che se noi facciamo explore, prima di attaccare e poi attaccheremo, avremo più probabilità di girare una creatura quando Kellan attaccherà. Perché facciamo explore. Se c'è una terra, la aggiungiamo alla mano. E quindi, vabbè, ci può essere la seconda terra, sicuro. Però, insomma, due terre di fila comunque non è così probabile. Se invece c'è, appunto, una creatura, la lasceremo in cima, anziché metterla al cimitero, e poi la pescheremo, tra virgolette, con Kellan. Quel 3 di costituzione è importantissimo perché fa sì che in Pioneer la Kellan non muoia da Bonecrusher Giant. O meglio, dall'instant di Bonecrusher, che si chiama Stomp, mi sembra. Quindi questa, ragazzi, secondo me entrerà in Pioneer in maniera importante. Secondo me si può giocare anche in più di una copia. Poi, alla sesta posizione, abbiamo una carta... Ah, scusate, vi faccio vedere il prezzo di Kellan. Perché ve la consiglio? Perché sta a 25 centesimi, a rotondo io, nella versione, appunto, Extras, regular, e a 90 centesimi nella versione Foil. Foil, appunto, Extras. Le versioni regular hanno un prezzo abbastanza simile. Leggermente più alta, in realtà. Mi pare che sui 40-50 centesimi quella, appunto, regular, quindi non foil, ha invece un euro e qualcosa, un euro e mezzo, la versione Foil del set base. Queste qua che vedete sono quelle Extras. Poi, in, appunto, sesta posizione, abbiamo Echoing Dips. Allora, leggiamola. Allora, quando entra in gioco, possiamo scegliere di farla entrare in gioco, appunto, tappata, come una copia di una qualsiasi terra in un qualsiasi cimitero. E con l'eccezione che comunque rimane una caverna. Se la tappiamo, aggiungiamo Mana Colorless. Questo, ovviamente, questa seconda parte che ho letto, è qualora non diventasse, appunto, una copia di un'altra terra. Allora, secondo me, potrebbe avere potenziale in Legacy, adesso, in Lens, però è un formato che conosco poco, quindi, in realtà, non voglio consigliarvela per quel motivo. Magari, ai giocatori di Lens, ai giocatori di Legacy, dico, leggetela e vedete voi se può entrarsi lì dentro. Io la consiglio, cioè, la consiglio. In realtà, questa è una carta, appunto, che vi consiglio di tenere monitorata, ma adesso io la lascerei lì, perché sta a 7 euro circa nella versione foil, 6,50 euro, e a 4,50 euro nella versione regular. Ha un grandissimo potenziale in tutti i formati, perché non si sa mai che magari stampino in futuro qualche terra veramente forte, cioè che fa cose incredibili quando entra, ma che magari ha dei malus. e quindi questa, ragazzi, è una carta da tenere sempre monitorata, mi avviso. Ve la butto lì. 4 euro sono tanti, se non c'è un'immediata applicazione, anche considerando che è rara. Però, ragazzi, questa teniamola d'occhio. Poi, in quinta posizione, abbiamo Deep Roth Pilgrimage. Allora, in cantesimo, costo 2, è blu, quando uno o più tritoni non token vengono tappati, creiamo un token tritone 1-1 con X-proof o anti-malocchio. Allora, questa carta mi pare che abbia già delle combo in Pioneer, scusate, in Commander. Tra l'altro, vi invito a guardare il video che ha fatto Mark sulle combo che ci sono in Grazie alle Carte di questo set. Torniamo alla carta. Quindi, in sostanza, è una carta che scomba e, secondo me, nel corso del tempo avrà più modi di scombare, cioè scomberà con tante altre carte. E al prezzo che vedete qua, cioè 3 euro la foil, secondo me va bene. Cioè, comunque, il Commander è un formato che va forte. Tra l'altro, chissà che magari un giorno non possa tornare utile anche in Pioneer, perché no, in base a qualcosa che può uscire. Tra l'altro scomba già anche in Pioneer in realtà, però, insomma, è una combo abbastanza improbabile. Secondo me questo è un buon buy. Poi, in quarta posizione, abbiamo la famosa carta che non era presente su Mythic Spoiler, o meglio, non era presente in questa facciata e, appunto, allora, si chiama Trampeting Carnozaur. Allora, 7-6, a costo 6, Travolger. Quando entra in gioco, Discover 5. Tappiamo 3, la scartiamo, fa 3 danni a una creatura o a un Planswalker. Allora, oltre, diciamo, ai ipotetiche interazioni con Matti Rianimator, perché no, in Pioneer e in Standard. Questa carta ha già una casa. E ha una casa in Legacy. Qua ne parlo perché è facile parlare dell'applicazione. E in questo deck qua, Mississippi River, deck che, diciamo, sta andando tanto adesso perché questa carta qua, Tecnica Creativa, Creative Technique, fin poco tempo fa il suo Magic Online non era disponibile. Adesso che è disponibile il suo Magic Online, la gente ha cominciato a testare il deck lì e, in sostanza, immagino che anche nei pochi tornei di cartaceo che ci sono, comunque questo deck qua sia un deck serio. E come per il Pauper, diciamo che il riferimento per questo formato è Magic Online, essendo comunque, appunto, sia Pauper che Legacy formati poco giocato a livello di cartaceo, perché, insomma, Pauper in realtà perché mancano probabilmente un po' di eventi a livello organizzativo, mentre il Legacy, perché comunque ci sono carte che hanno un valore incredibilmente alto e quindi non è così, diciamo, conveniente per i negozianti o per, diciamo, chi organizza tornei promuovere questi eventi. Comunque, al momento. E poi magari sono formati bellissimi, ma che conosco poco. Comunque, dicevo, questa carta, appunto, ha già la sua casa perché, appunto, in questo deck non possiamo giocare carte che costano meno di 5, meno di... sì, di 5, o meglio, scusate, non possiamo giocare carte che costano meno di 6 a differenza di punto tecnica creativa e niente, quindi possiamo... è uno sparo in sostanza, cioè perché è forte, perché possiamo usarla come sparo, come removal, pagando 3 mana e quindi è una risposta che abbiamo e che può essere giocata in questo deck, perché noi non possiamo giocare Bolt, non possiamo giocare Bone Crusher, perché altrimenti con tecnica creativa non riusciremo, appunto, a far sì che le nostre spell a 6 facciano un cascade stereo e, scusate, mi sono incasinato, non conoscendo bene il deck, comunque, in sostanza, l'obiettivo è fare una carta con cascade, con cascata, che, appunto, ci prenda dal deck questa tecnica creativa e giochi, appunto, questa spell qua. Quindi, il deck più o meno funziona così e questo, appunto, questo dinosauro sta molto, ma molto bene qui dentro. Poi, in terza posizione abbiamo, prima della terza posizione, però vi faccio vedere il prezzo, 98 centesimi per la versione regular extras e 1,68 euro per la versione foil di busta, di busta, intendo, appunto, del set, quindi non extras e questa carta qua l'ho già comprata. In terza posizione abbiamo una ristampa, ovvero Growing Rights of Itilmoc. Allora, perché l'ho messa nella top investment? Non mi piace mettere ristampe, però, secondo me, è abbastanza evidente, ragazzi. Allora, 4,50 euro per la foil e guardate a quanto sta la foil della prima X-Lan. 20 euro. Allora, ovviamente non mi aspetto che arrivi a 20 euro questa versione qua, però, cosa mi aspetto? Che le due versioni un pochino si avvicinino a livello di prezzi, cioè quella di X-Lan, questa qua, calerà un minimo, visto che comunque non stiamo parlando di foil old layout, che quelle è difficile che crollino anche se appunto ristampano versioni nuove, versioni appunto aggiornate. Quindi questa calerà, mentre questa qua, questa versione, mi aspetto che un po' salga. Chiaramente la carta appunto si gioca solo in commander, però il commander è un formato importantissimo per il prezzo delle carte e questa si gioca credo in tanti matti col verde, perché altrimenti non avrebbe questo prezzo. Quindi ragazzi, a 5 euro veramente un ottimo buy, qui ho spoilerato la numero 2 che appunto è Get Lost, che secondo me a livello di diciamo impatto nei vari metagame questa è la carta più importante in assoluto del set. Allora, Instant a costo 2, distruggiamo una creatura, un incantesimo, un placewalker. Il suo controllore crea 2 token mappa incredibilmente forte, versatile è la carta che serviva a ubicontrol in pioneer ma in realtà ragazzi, secondo me questa può entrare anche in modern perché appunto spaccando incantesimo fa fuori il line binding e in modern ci sono le fetch quindi possiamo splashare di bianco e fa veramente cose incredibili. Appunto ha due lati negativi il più importante è che non bersaglia gli artefatti. Il secondo appunto è questo qua dei token mappa ma in modern è veramente macchinoso attivare un token mappa. In pioneer dipende contro chi giochiamo questo discorso è valido anche per il modern ma veramente cioè te li regalo volentieri quei token mappa se ti posso spaccare grisfang a velocità instant con una spell che mi risolve anche teferi in mirror e che mi risolve anche gli incantesmi tipo shak typhoon o tutto il resto veramente questa è una carta incredibilmente multi formato entrerà dappertutto credo ovviamente non mi sbilancio per legacy e vintage perché non li conosco bene credo che in quei due formati non entrerà modern pioneer commander e commander c e ovviamente anche in standard prima posizione ragazzi prima però mi stavo dimenticando vi faccio vedere il prezzo di questa 2 euro per la versione regular 3 euro e 50 per la versione foil le versioni extras regular e foil hanno un prezzo abbastanza abbastanza simile prima posizione ragazzi sarete delusi perché anche qui abbiamo una ristampa però qua mi sembra ancora più evidente rispetto a prima abbiamo gsat dinosauro molto apprezzato dei giocatori di commander che adesso possiamo trovare in questa versione attorno ai 7 euro e attorno ai 10 euro nella versione foil se andiamo su magic online a vedere la versione della prima xlam vediamo come la regular sta almeno a 20 euro la foil qua addirittura si parla di 60 euro ma io ho filtrato per 4x e sarà comunque attorno ai 30 a 40 euro è una differenza enorme di prezzo quindi non può valere così poco questa versione capisco sì che adesso la tiratura è aumentata però la differenza comunque è troppo troppo elevata cioè si parla di 15 euro di differenza cioè 4 volte tanto non esiste secondo me quindi per forza di cose questa versione qua salirà di prezzo bene ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere se appunto ho lasciato fuori qualcosa se ho promosso delle carte che invece secondo voi non saliranno anzi scenderanno e basta e niente ovviamente quello che ho chiesto prima se il contenuto vi è piaciuto lasciate questo benedetto like abbonatevi e perché no magari anche condividete il nostro contenuto con i vostri amici con i vostri amici appunto appassionati di magic quindi non spam a caso diffondete il verbo dei lotus ci vediamo ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti